Buongiorno a tutti, tra un po' andiamo a Sperdonga, che è un'altra cittadina tipo Gaeta, però sono inglese. Ok? Tipo Gaeta è un coccodrillo, ha una forma di coccodrillo, invece Sperdonga sarà di tacchino o qualcosa del genere. Cosa dici? Ah no, sarà di un alligator. Un coccodrillo. Abbiamo mangiato a colazione e adesso siamo qui ad aspettare i nostri tassisti. E poi oggi che faremo? Oltre a Sperdonga? Visite nemmo là e poi andiamo al mare. Ieri era bello mosso, aiutato, oggi speriamo sia un po' più calmo, almeno ci rilassiamo e non spieghiamo tutte le nostre forze. E che dire? Niente, ciao. A tra poco. Siamo a Sperdonga. Sì, dietro di noi c'è il mare. Teoricamente per andare al mare si doveva scendere le scale, però noi non ce l'ho mai. Sì, ascrivi la telecamera. Sì, non mi trovo. Ok. Adesso continuiamo a fare un giro per un po'. È molto complicato guardare. Sì, si vede. È troppo sole. Sì, sì. È un po' più complesso. È un po' più brevo. È un po' piùembano. Oggi è un po' più baciare. un altro bel panorama parca lì c'è una chiesa, lì su c'è una storia guardiamo la foto è molto tranquilla la città infatti è piccola però concentrata tranne quella bandiera che fa veramente rivoltare vedi la vedi? giusto per farvi vedere rivoltare quella italiana? quella di in Italia vabbè quello dell'Aimentus vi consigliamo molto Sperlone proprio bene quando la maniera non è una bambina non è una bambina è un'unico Era una pieta, è rimasta solo questa facciata, guardate com'è pulita, dai mi dico, guardate com'è pulita la finestra, è così bella e splendente che è azzurra. Siamo al mare e abbiamo giocato un po' a Pasol Babo, siamo arrivati, quanti siamo arrivati? 1 a 3, 5, 5 e poi al quinto livello e al quindiceso, no trediceso, dopo sicuramente fratteremo altre, cioè farà, dai, questa qui, questa, questa qui, farà altre, partite e poi prenderemo cornetto, tu hai cornetto? Cornetto e io forse da granita e sicuramente lì andremo al mare, cioè faccio i bagni. e poi andremo verso cosa come ieri. Anche a carte. Ah sì, giochiamo anche a carte. No, no, per vincerò io. Eh sì, ti piacerebbe. Nutella, con il netto. Vai. Avevamo detto, mi piace, ok, mi piace, va bene così. Eccoci, lungomare. Dalla sabbia, dalle gambe, bruciate. Bene, per scopo. Bene, per scopo. Bene, stiamo qui un po' Sì. Ci prendiamo qui un po' Sì, mi sembra, insomma. Adesso è qui. Ci metto così. Mi sembra così. E quindi, lo sappiamo di andare. Sì, come al solito, non vi metto lì. Ecco qui, quando bisogna andare via, lei ovviamente si mette a fare punti e non finisce più. Siamo di ritorno, si è arrivato al ventunesimo con 12 milioni, appaggia il babbo, se non si fosse avvinto. E gomma? Dai! Adesso ci stiamo andando a casa, ovviamente siamo i primi che arriviamo e non il suo padre. Gente che ci guarda sbalardita con questa videocamera. E adesso torniamo all'hotel, cioè andiamo a casa, ma torniamo all'hotel. Ah, poi dici che l'ultimo forse domani non parte domani. Sì, forse. E parte o il 27 o il 28. Dipende, speriamo il 28. Adesso comunque stiamo tornando e facciamo un altro let's eat, che è il terzo, se non sbaglio. Terzo? Sì. Terzo. E potete vederlo qui. Oh no. L'è zitto. Oh, qua. Abbiamo finito di mangiare e adesso stiamo tornando, andando a letto, quindi tornando. Ovviamente è separatamente. Sì, vabbè, abbiamo finito di mangiare, siamo stati un po' in piscina. No, sto dicendo a dormire. Ah, sì. Però siamo stati in piscina prima. Eh, manco mezzanotte. Sì, sono le 23 e 40. E adesso andiamo nei dormitori, diciamo così. Le stanze con i dormitori. Ecco, le stanze, bravo. Mi vediamo il nome. E termine. Quindi buonanotte a tutti. Speriamo vi sia piaciuto anche quest'altro video. Ciao. Intanto guardatevi queste riprese e diteci con un commento. Asperdonga. Sì. Spero si senta perché c'è un vento. Adesso scendiamo per il mare. Vedete le mie spalle? Viste le spalle. Vedete? No, adesso scendiamo. Sì, va bene. Allora non scendiamo, però scendiamo per il mare. Oggi. Adesso scendiamo. No, non scendiamo qua. No? Perché non scendiamo? Non scende il cristale. Serialmente.